This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Settore Giada, Olmi. Ti porterò sulle rive del fiume, all'ombra degli Olmi. E con poche parole diremo cose importanti e non avremo paura del passare del tempo. E non avremo paura e non ti lascerò mai. Mai lai 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 lai. Mai lai lai lai. E non avremo paura del passare del tempo. E non avremo paura e non mi lascerai. E non mi lascerai. E non avremo paura del passare 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 del Come on, come on Where have you been, my love? Come on, come on Where have you been? Where have you been? My Dioxy, the way out The Dioxy, the way out Dioxy, the way out The Dioxy, the way out The Dioxy Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.